Finite le vacanze, il Napoli si è ritrovato ieri sui campi del centro tecnico di Castelvolturno per il primo raduno in vista del ritiro a Di Maro. Agli ordini di Mazzarri si è ritrovata la squadra senza i nazionali Cavani, De Santis e Maggio e soprattutto senza il Pocio Lavezzi. Un effetto strano vedere gli azzurri sul campo di Castelvolturno senza il giocatore che più di tutti ha infiammato negli ultimi cinque anni, il pubblico del San Paolo. Si spera che il baby talento Lorenzo Insigne, arrivato a Castelvolturno in compagnia dei genitori, riesca a far subito breccia del cuore dei napoletani e far dimenticare al più presto la partenza del fuoriclasse argentino, nel frattempo sbarcato a Parigi dove giocherà con il Saint Germain di Carletto Ancelotti. Con la squadra si sono aggregati anche tre Primavera, Novotni, Celiento e Fornito, tre più acclamati dai pochi tifosi a corso a Castelvolturno per ammirare da vicino i giocatori Mare e Kamsik. A parte Insigne di volti nuovi, per ora neanche l'ombra, manca ancora tanto alla chiusura del calciomercato.